oggi ti presento delle persone speciali molti stanno provando a fare video di case ma solo alcuni sono autentici video agenti immobiliari capaci di vendere immobili prima e meglio grazie a loro posso vendere la tua casa anche se a mille chilometri di distanza ciao da san mauro pascoli ed alberto berardi video agente immobiliare sono viola stacchi da colorno video agente immobiliare sono roberta lo popolo da monte silvano video agente immobiliare siamo in tanti se vuoi vendere casa ovunque sia chiamami grazie a noi video agenti immobiliari verrà venduta prima e meglio iscriviti al canale